Incontro valevole per l'Amator Lightweight Division, 155 libre e limite fissato. Chiamiamo l'Angolo Rosso, 154.4 libre per il Team H2O Bono Academy, Milko Andree. Chiamiamo l'Angolo Rosso, 155 libre per il Team H2O Bono Academy, Milko Andree. Chiamiamo l'Angolo Rosso, 155 libre per il Team H2O Bono Academy, Milko Andree. Milko Andree, contro di lui, all'Angolo Blu, 155.6 libre per il Team H2O Bono Academy, Brad Lidon. Chiamiamo l'Angolo Rosso, 155.6 libera di Poi. Come botti Boi. Chiamiamo l'Angolo Rosso, 155.6 libre per il Team H2O Bono Academy, Milko Andree. Come botti Boi. Come botti Boi. Come botti Boi. Come botti Boi. 3 round da 3 minuti 5 minuti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.